Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della terza stagione del terzo volume di Love Death and Robots, questa serie animata che ho visto in realtà qualche settimana fa perché ho avuto la possibilità, grazie a Netflix, di visionare i nuovi episodi in anteprima di qualche settimana, però l'embargo scadeva comunque oggi, giorno di uscita sulla piattaforma, e quindi eccomi qui a parlarne, anche se comunque oggi è già uscito un video, è uscita la recensione di How Met Your Father, in ritardo sì di qualche giorno, ma comunque è già uscita, e quindi in caso dopo questo video vi consiglio di andare a vedere quell'altro se volete sapere la mia e volete un consiglio riguardo una serie da guardare. Questo probabilmente sarà un video molto corto perché sarò discorsivo, non ho tantissimo tempo per editare, quindi cercherò di fare meno tagli possibili, mi scuso in anticipo per eventuali riflessioni cosmiche, appunto delle pause che non saranno tagliate nel montaggio finale perché appunto cercherò di fare pochi tagli. Prima di iniziare però con la recensione, come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione. Qui sotto trovate anche il link di Pampling e il link del Fantasia Store, rispettivamente su questi siti trovate delle t-shirt, delle felpe, calze, poster, tazze e tantissimo altro, tutto a tema nerd, mentre sul Fantasia Store trovate Funko Pop, giochi in scatola, carte collezionabili, carte da gioco e tanto altro. Ci sono anche dei codici. Per Pampling il Pensiero 4, che vi darà il 20% di cashback, cioè dei soldi che tornano indietro sul vostro profilo, sotto forma di punti, per poi essere spesi magari in un altro ordine, mentre per il Fantasia Store c'è il codice Android 5, che vi dà la possibilità di avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati in principio. Ripeto comunque che i link sono in descrizione e vi invito vivamente a dare un'occhiata ai due siti. Ma adesso iniziamo con questa recensione, che sarà solamente no spoiler, non ci sarà una parte spoiler, perché comunque non è che veda così tanto da spoilerare in un prodotto del genere, visto che sono 9 episodi, in questo caso autoconclusivi, sono davvero delle storie a parte. Se non conoscete il format di Love, Death and Robots, intanto vi consiglio di andarlo a recuperare. Ed è un po' sulla falsa riga di Black Mirror, di American Horror Story, però episodio per episodio, non stagione per stagione. Ma comunque direi in ogni caso di iniziare con questa recensione. Come ho fatto anche per la recensione del secondo volume della stessa serie, anche qui darò un voto per ogni episodio. Darò un voto per ogni episodio e alla fine si farà una media per la serie in generale. Partiamo quindi dal primissimo, almeno dall'ordine in cui li ho visti io in anteprima. Non so se magari è stato cambiato perché è successo così durante la seconda. Io li ho visti in un ordine e poi sul Netflix il giorno d'uscita effettivo per tutti li hanno messi in un altro ordine. Non so, non ho ancora visto la lista attuale degli episodi, però io li ho visti in quest'ordine. Tre robot. Strategia d'uscita. Questo è un sequel di un episodio già esistente nel primo volume di questi tre robot che sono dei turisti. Sono dei turisti nel nostro futuro, quindi il momento in cui noi ci siamo estinti. L'uomo si è estinto totalmente e loro appunto cercano di conoscere questa vecchia civiltà che abitava la Terra. Ecco, già il primo episodio mi era piaciuto tanto. Era divertentissimo, faceva abbastanza pensare. Qui hanno cercato di usare la stessa formula. Diciamo che è quasi lo stesso episodio se non per quello che succede, quello che fanno vedere. Le battute sono allo stesso livello di comicità. E poi tra l'altro c'è una cosa che mi ha fatto davvero impazzire verso la fine. Non voglio fare spoiler, però appunto per tutto l'episodio ho pensato, da una certa parte in realtà dell'episodio dove iniziano a parlare di una cosa, ho pensato ad un certo dettaglio della nostra realtà e alla fine c'è una battuta che ti spiazza se hai pensato alla stessa cosa che ho pensato io. Non so se mi sono fatto capire perché è abbastanza difficile parlarne senza spoiler in questo momento. Comunque, il voto per 3 robot strategia di uscita è un 7. Non così tanto alto perché l'ho trovato molto molto simile al suo predecessore, l'episodio del... se non sbaglio pure primo episodio della prima stagione. Quindi, boh, non ricordo però è comunque un sequel di quell'episodio. L'ho trovato molto simile e in certe cose non mi ha fatto impazzire poi così tanto, cosa che invece aveva fatto l'altro sui 3 robot. Poi passiamo a un brutto viaggio. Questo episodio, a questo episodio animato, hanno lavorato tantissime persone come in generale tutti gli episodi di Love that Robots o in generale qualsiasi prodotto, però è diretto da Fincher. Esatto. Quel Fincher. Quello conosciuto per aver diretto il live action di La Casa di Topoli. No, sto scherzando. Anche questo episodio, proprio come 3 robot e in CGI, CGI realistica, anche se 3 robot ha uno stile grafico diverso, è comunque in CGI. Questo è molto più realistico. Abbiamo questa nave su cui stanno dei marinai che vengono attaccati da questo granchio alieno. Non sono nella nostra terra, almeno così ci viene presentato. Sono appunto in un mondo alieno, in un mare alieno. E questo granchio prende in ostaggio in qualche modo questi marinai. Non dirò altro perché questo è un episodio tutto da scoprire, diciamo così. Mi è piaciuto e devo ammettere che in realtà è stato l'unico episodio ad aver superato il 7. E infatti il voto che gli ho dato è un 8. La storia non è che sia comunque chissà che, però ci sono alcuni colpi di scena che non mi sarei aspettato in 22 minuti. Però sinceramente mi ha colpito particolarmente. Terzo episodio è la pulsazione della macchina. Questo episodio non l'ho capito. Non l'ho capito in realtà, l'ho visto solamente una volta, un po' non del tutto concentrato. Però l'animazione è davvero figa, mi è piaciuta tanto. Non è in CGI. E questo è un bene, ultimamente con Love that robots poi farò un discorso finale. L'animazione non è appunto in CGI, è un'animazione più in 2D. Sembra in 2D ma è comunque tridimensionale. Un po' come, non so se avete visto l'anime sempre di Netflix, originale Netflix, Eden, 4 episodi. Ho fatto anche una recensione tanto tempo fa. È comunque CGI ma per l'animazione 2D. Non è assolutamente una CGI realistica. I colori e l'animazione sono la cosa migliore. La storia veramente non mi ha colpito. Infatti il voto che gli ho dato è un 5. Molto basso, lo ammetto, però non mi ha lasciato quasi nulla. A parte comunque lo stupore visivo, che sia una buona parte, infatti è tutto quello il voto. Però la storia è un po' un me. La notte dei mini morti. Questo episodio mi ha ricordato tantissimo quello dello yogurt nella prima stagione, che tra l'altro vi consiglio di vedere se non l'avete visto. Ha più o meno la stessa morale della maggior parte degli episodi di Love that robots. Ormai vanno sempre su quella morale, ovvero che noi, gli uomini, non sono nulla in confronto al vasto universo. L'animazione, se non sbaglio, l'ho visto anche questo una sola volta e qualche settimana fa, appunto, mi sembra fosse in stop motion con questi mini personaggi che appunto fanno partire un'invasione zombie. Ebo, sinceramente, a parte la morale che è comunque copiata, non è che questo episodio abbia così tanto. Non fa nemmeno così tanto ridere perché viene buttata un po' sul comico. Sicuramente meglio della pulsazione della macchina, però comunque nulla di che. Morte allo squadrone della morte. Altro episodio, vi dico già da ora il voto, che è un 6. Anche questa volta abbiamo un'animazione 2D. Un'animazione 2D differente dalla pulsazione della macchina. E qui cambia anche lo stile grafico, non solo l'animazione. Mi ha ricordato tantissimo una serie animata a un cartone che guardavo da piccolo. Ovviamente solo per l'animazione, non per quello che si vede, per quello che dicono. Perché assolutamente non guardavo queste cose da piccolo. Episodio molto più action, non ha chissà che grande morale finale, anzi forse non l'ha nemmeno. È uno di quelli più sull'intrattenimento che sulla riflessione. E il voto che ho dato è un 6. Shame, altro episodio, altro 6. Qui abbiamo ancora una volta la CGI fotorealistica, davvero molto realistica. Abbiamo questa squadra di militari, mi pare, sì. L'ho visto anche una volta, ma questo lo ricordo un po' meglio in confronto agli altri. Questi militari entrano in una grotta e da lì non vi dico più nulla perché bisogna solo guardarlo. È molto horror questo episodio, è forse uno dei primi. No vabbè, anche un brutto viaggio è abbastanza horrorifico. Poi vabbè, lasciamo da parte il funzionare o no. Cosa che comunque un brutto viaggio fa, mentre questo Shame un po' meno. Però se devo essere sincero sembra in questo caso un film live action. Un qualcosa di proprio registrato su un set invece che un'animazione. Da questo punto di vista diciamo che Love That The Robots è quasi sempre perfetta. Non ci sono mai problemi grandissimi di animazione o di CGI. Qui lo stile grafico è proprio proporzionato alla vita reale. Non ci sono sproporzioni a livello fisico. Mason e i Ratti. Altro episodio in CGI, non fotorealistica. Abbiamo questi personaggi sproporzionati. Mi ha ricordato tanto anche questa volta una serie che guardavo su Nickelodeon. In realtà mi ha anche ricordato un episodio di Love That The Robots, quello del mostro, il mostro di spazzatura. Non so se ve lo ricordate, non ricordo il nome. Qui abbiamo questo Mason, questo vecchietto, questo campagnolo che si ritrova il capanno pieno di ratti. Ratti che sembrano molto evoluti. Quindi lui cercherà in qualche modo di cacciare via questi ratti anche con le brutte maniere. Non mi ha fatto impazzire questo episodio. Infatti gli ho dato un 5, ma non perché è brutto. Ma solo perché è abbastanza vuoto. Dopo comunque aver visto tutto quello che presentano nella prima parte. La seconda parte l'ho trovata molto vuota, senza nemmeno chissà che grande morale. Non che mi aspettassi una morale da un episodio del genere, ma qualcosina almeno. Invece un finale, vabbè, era prevedibile fin dall'inizio per quanto mi riguarda. Quindi non mi sono nemmeno stupito dal finale. Sepolti in sale a volta. Mi sono appena accorto di aver effettivamente sbagliato perché era questo l'episodio dei militari. Scusate ragazzi, ultimamente sono molto stanco. Però comunque ora vi parlerò naturalmente del vero sciame. I voti sono comunque gli stessi, sono 6 per entrambi, quindi il voto non cambia. Però quello dei militari che entrano nella grotta, sempre in maniera fotorealistica, è appunto sepolti in sale a volta. Mentre sciame, adesso vi parlo di questo, è presente a quest'uomo che vive comunque in una condizione molto futura perché ci sono gli alieni che parlano tranquillamente con l'uomo. Ci sono anche degli eventi che vengono più o meno citati, quindi è successo già un incontro molto tempo prima, anche una guerra, però gli alieni, almeno questi alieni e gli uomini erano dalla stessa parte. E tanto per cambiare animazione fotorealistica, quindi CGI proprio molto realistica. Forse le proporzioni qui sono un po' differenti dalle possibili reali, quindi... Poi anche questo ha qualche piccola parte horror, qualche parte anche gore, se possiamo chiamarla così, però si concentra molto sull'azione. Episodio carino, nulla di che, però appunto gli ho dato un 6. E infine, ultimo episodio, almeno nella formazione, nell'ordine in cui li ho visti io, Jibaru, sperando si legga così. Perché in questo episodio, se non sbaglio, non viene detta nemmeno una parola. Si fa tutto con la musica. Musica e ovviamente anche animazione. Animazione che mi è piaciuta, l'animazione è davvero interessante, però dal lato della sceneggiatura e della storia è un po' un... Beh, non mi ha convinto così tanto, in realtà non ho capito nemmeno alcune cose. C'è una morale, c'è la morale, ovvero che l'uomo, per avere una certa cosa, non vi dico naturalmente cosa, farebbe di tutto, però la storia non mi ha convinto tantissimo. D'altra parte abbiamo l'animazione che, sì, è davvero interessante, l'animazione e la musica. Nonostante questo, il voto di Jibaru, sempre se si legge così, è un 5. Prima di passare alle conclusioni finali sulla stagione, in generale su Love that Robots e l'animazione in CGI, perché era questo di cui volevo parlarvi prima, facciamo la somma e quindi la media di tutti i voti di questi 9 episodi. Quindi 7, 8, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 5. La somma è 54, quindi siamo proprio perfetti, arriviamo perfetti al voto tondo tondo, perché 54 diviso 9, che sono gli episodi, fa 6. Quindi, tutto sommato, mi dispiace dare un voto così basso a una serie che apprezzo tantissimo, io attendevo questa terza stagione come poche cose, però ammetto che non mi ha convinto così tanto. C'è chi ha già notato questo calo nella seconda stagione, qualcuno ha già trovato gli otto episodi di quel secondo volume molto più spenti e molto più vuoti in confronto a quelli 18, 19, non ricordo quanti fossero della prima, ma a me tutto sommato erano piaciuti e questo potete notarlo anche dalla recensione che ho fatto a maggio scorso. Però questa terza sinceramente è stata un po' deludente, quindi sì, 6 è il voto che si merita. Ecco, parliamo dell'animazione, almeno dello stile d'animazione, perché appunto si usa molto spesso la CGI ultimamente, negli ultimi episodi, anche nella seconda. Non c'è più quella differenza che c'era tra un episodio e l'altro che si notava nella prima. Ormai sono molti gli episodi che fanno uso di CGI, soprattutto fotorealistica, e tralasciano, diciamo, magari anche l'animazione manuale, la classica, o anche solo quella 2D, quella anime possibilmente, quella un po' più orientale. Ed è una cosa che sinceramente mi dispiace, perché era questo, era una delle cose più belle di questa serie. Speriamo che se ci sarà una quarta parte si andrà su tutta altra strada. Credo che in realtà questo terzo volume dovesse far parte del secondo volume, perché mi sembra strano che la prima stagione abbia così tanti episodi e queste altre due uscite ne abbiano 8 e 9. Mi sembra un po' che abbiano voluto affrettare i tempi di uscita della seconda stagione per non lasciarci tanto tempo senza qualche episodio di Love, Death and Robots, perché la prima stagione, non ricordo di che anno fosse, ma è di qualche anno fa, hanno deciso sempre, secondo me, di sacrificare l'unità di questi 17 episodi per dividerli in due volumi. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa pensate di questi altri 9 episodi di Love, Death and Robots. Vi piace la serie in generale? Vi è piaciuta questa nuova stagione? Fatemi sapere tutto con un commento qui sotto. Se volete fare spoiler, mi raccomando, contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler, poi lasciate qualche spazio così da far comparire leggi tutto, il solito leggi tutto dei commenti, e poi scrivete appunto il vostro messaggio per non rovinare la visione a chi ancora non ha visto gli episodi. Ve lo dico anche qui prima di chiudere, fra qualche giorno arriverà la recensione no spoiler del volume 1 della quarta stagione di Stranger Things, che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima, e quindi per questo vi invito ad attivare la campanella, quindi di conseguenza essere iscritti, per non perdere questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei altri social, Instagram, Twitter e TikTok. Su Instagram vi tengo aggiornati, TikTok lo uso abbastanza, mentre Twitter ogni tanto pubblico qualcosa, ma vi consiglio comunque di seguirmi. Vi ricordo anche che ci sono i link di Pampling, codice il pensiero 4 per il 20% di cashback, un paio di calze gratis, e il link del Fantasia Store, Funko Pop, carte da gioco, carte collezionabili, giochi in scatola, codice Andri5 per il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati. E ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao! Grazie a tutti!